32. BICCHIERE D'ACQUA 33. BICCHIERE D'ACQUA 33. BICCHIERE D'ACQUA Concludeva mio padre e io divenni un pescatore insieme il bene di cui parlava mia madre. Sì perché il bene è già difficile da poter stabilire. Il bene di chi? Il bene rispetto a chi? Chi ha deciso qual è il bene? Io nel tempo non lasciando il peschereccio mi sono risposto ho deciso io qual è il bene seguendo la mia intenzione nei confronti dell'altro da me agendo secondo il mio sentire se veramente il bene è diventato un mio sentire il bene lo faccio comunque e non è che posso dire il bene non lo faccio se ormai il bene è un mio sentire e il bene lo farò comunque sia non solo ma non mi curo nemmeno dell'effetto che il mio fare il bene avrà sulle altre persone perché lo faccio in maniera talmente naturale che per me è come bere un bicchiere d'acqua ecco cos'è il bene per me dopo che ho bevuto il bicchiere d'acqua non mi chiedo mai che cosa ho sbagliato nella mia azione perché so interiormente che ho agito per il meglio per il meglio per me e per l'altro da me credo che sia difficile a dirsi ma sia facile a farsi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti